Buonasera Buonasera Oh, io non so voi ma io non riesco a trovare anche il lavoro E' più forte del... Non ci riesco tutti i loro co-co-co-co-cro co-co-co-cro tutti i loro che e do-do-ga-do-ga do-do-go-ga un guardiano un guardiano di una fabbrica E io ci provo, vediamo un po' se sta volta buona. Cro, 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 cro. Crociate le da pure pe, 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 pe. Buonasera, se comodi? E me sa che qua. Se mi dipende. Olè Olè Olè, Olè... Metto l'annuncio dei Dinguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguang equals GrossAI Vol lo sapest busy? Spaceboy. Posto? Posto! Guardi, il posto ci sarebbe pure, però... Sai, qui è... Ci serve un guardiano notturno. Ci serve uno che se c'è un bisogno di, che ne so, arrivano i ladri, c'è un incendio o qualcosa, deve essere presto, cioè, se la devi dare da fare, con tutto rispetto, come serve dal caso. C'è problema, c'è problema, sì. Perché a me mi pare che la lezza caglia un pochetto, cioè, come faccio? Perché chiami i pompieri, i reggini urbani, come li chiama? Aspetto, aspetto. Eh, però c'ho altra gente, se si spugnano. E' nel te, stanno aspettando. Eh, lo so, però c'è gente, magari c'è gente. Sono balpuziente quanto canto, non si sente? Eh? Va, 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 va bene. Va bene. Guardi, facciamo la cosa. Giusto perché lei mi sta simpatico la faccio provare una sera, però mi raccomando, c'è... Non me la conto. C'è, c'è, grazie, 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 grazie. Anna! Grazie. Il giorno dopo. Sto maledetto! Ma te l'ha fatto tutto, ma è andato, guarda la fabbrica, tutto di giro. Do sai? Oh, l'ha fatto, maledetto, bastardo, guarda che ha combinato. Ma l'ha detto che a me i pompieri, chiamo a tutti, guarda che ha combinato. Ma sono dominato, insomma, ma che gli dico, ma al capo? Guarda che ha dominato. Il me lo è. Il me lo è. È ne cazzo, no! Guarda che l'ho combinato! È ne colpa, 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 colpa. È colpa di chi? Guarda che l'ho combinato. No, no. Perché tu? Qua c'è dicendo? Chiami lo pieno. E io, no, 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 ch'è chiacchia, ch'è chiacchia. Sì, ch'è chiacchia, ch'è chiacchia, guarda, tu andai a c'è chiacchia. Chiamate voi, 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 voi. Io ho pieno. Ok. Maledetto. io ho fai, io ho fatto, io ho fatto l'industria stanno a fuoco e non trozzo da 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 la ma mi ha rispondo farà po' in si può grazie 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 a te ah ma 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 mattina me 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 do svei a periods 7 7 sett lo so no, ma è fatto to do 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 siete e io devo fare co 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 e... e io scusò capito è giusto, gli caglini hanno bisogno anche di misceglietti Lo so, però poi a me... mezzogiorno, io dò dà, da, 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 da... da... da, 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 da. Da, 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 da... se non mangiano, muorono. Ho capito, però poi quando sono e, e ci... e ci... e ci... e ci... e ci... e ci 5. ed io ho devo devo fare i big in otre però mi entro tutto tutto e faccio che poi alla fine gli dico che mamma ha rotto i Cuy, referendum e li ha sconoduto, li ha sconodato. Grazie a tutti.